sul web è spuntata una bellissima foto diventata virale di paolo bonolis insieme al figlio e al nipotino per il conduttore boom di lichè il famoso e amato presentatore televisivo è uno dei volti più seguiti non solo sul piccolo schermo ma anche sui social dove condivide diversi momenti legati alla sua vita privata come i fan sanno bene paolo bonolis è diventato padre per cinque volte ed ha un bellissimo rapporto con ognuno di loro i figli del conduttore di mediaset sono nati da due donne diverse dall'unione con la psicologa statunitense dianzo eie sono nati martina e stefano mentre dal matrimonio con l'opinionista e autrice sonia bruganelli sono nati silvia davide e adele negli ultimi giorni su instagram è spuntata una bellissima foto di bonolis insieme a uno dei suoi figli e il nipote uno scatto molto tenero che ha conquistato tutti gli utenti del web paolo bonolis il ritratto familiare conquista i social la foto i fan del conduttore di avanti un altro e ciao darwin sanno molto bene quanto sia legato a tutta la sua famiglia ogni volta che non è impegnato al lavoro infatti paolo bonolis passa molto tempo con i suoi figli con l'intenzione di non perdersi niente di loro anche se ormai sono tutti adulti dato che la più piccola adele ha già 17 anni negli ultimi giorni è stata condivisa da stefano uno scatto in cui c'è paolo insieme a lui e al figlio tre generazioni ha scritto il ragazzo dove in vacanza formentera proprio insieme alla famiglia e al padre nella foto si vede il bellissimo quadretto familiare dove il conduttore tende la mano verso al piccolo della famiglia in segno di affetto tantissimi sono i commenti arrivati sotto il post dove in molti sono rimasti spiazzati dalla dolcezza dell'immagine come anticipato stefano è il secondo genito del conduttore nato nel 1984 dalla relazione tra paolo e dianzo eie in passato il ragazzo è stato legato alla showgirl paola caruso la storica bonus del programma avanti un altro condotto proprio da bonolis ma dopo la fine del rapporto ha intrapreso una relazione con una ragazza americana con la quale si è sposato ed è diventato padre stefano e la sua famiglia vivono negli stati uniti come si nota dal profilo instagram ufficiale il ragazzo è un grande appassionato di viaggi animali e calcio